In questo momento la partita, Pedrabissi va in uno contro uno, perde il contrasto, poi ha la meglio, attenzione in area di rigore, Pedrabissi fa tutto da solo, Pedrabissi, la parata di Storevic, è la palla che termina in corner. Attenzione ai movimenti in area di rigore, il pallone calciato bene a giro, sul secondo palo, il colpo di testa e il vantaggio della Rosenborg con Blackstad che sorprende tutta la nostra difesa. Rosenborg che passa al ventiquattresimo con il colpo di testa di Blackstad, ha chiamato lo schema, è andato lui a saltare sorprendendo tutti, dovrebbe essere gol proprio di Blackstad con il numero 9, pensiamo di avere visto giusto. Attenzione alla palla dentro, per Forte, il pareggio dell'Inter con Francesco Forte, il secondo gol in Next Game Series, il pareggio nerazzurro al trentasettesimo con Francesco Forte che poi guida i suoi, dice non dobbiamo fermarci qui. Un pallone ha avuto, un pallone ha messo dentro, ottimo il passaggio di Boccar, il sinistro di Forte a metterla sul secondo palo, diamo a rivedere qui l'ottimo lavoro da parte di Boccar, si muove sul filo del fuorigioco, Francesco Forte col sinistro realizza il suo gol numero 2 in Next Game Series. Poi la palla sguscia da dove c'è Belloni, è partito sulla sinistra, Pedrabissi, prova a servirlo Belloni, il gancio strepitoso di Pedrabissi in area, Pedrabissi, un gol pazzesco, 2-1 Inter, Pedrabissi. Al venticinquesimo, un gol davvero fantastico, il primo in Next Game Series per Thomas Pedrabissi, un gol davvero strepitoso, l'aggancio, guardate qua, il cambio da parte di Belloni e l'aggancio davvero da campione con il mancino di Pedrabissi che la mette giù e poi sa cosa fare. A giro sul secondo palo, l'Inter trova il vantaggio, ma davvero è un gol fantastico, quello di Pedrabissi che festeggia la sua settimana magica con l'esordio in primavera mercoledì. Aveva segnato contro il Modena il gol che aveva deciso la partita con l'1-0, esordio in primavera quindi da titolare, gol dopo tre minuti. Ancora Boccar fa tutto da solo, la palla è per Duncan che può prendere la mira, Duncan e la parata ancora di Storjevic. Area di rigore con tutto il Rosenborg. Olsen va a calciare bene all'altezza del secondo palo e c'è il gol da parte di Francesco Forte che segna la sua doppietta personale, mette in ghiaccio la partita e probabilmente anche la qualificazione. Il 3-1 meritatissimo dell'Inter con Francesco Forte in acrobazia, la sua prima doppietta in Next Game Series sale a quota 3 in classifica a marcatori in Europa. il suo settimo centro in questa stagione, il gol di Francesco Forte all'ottantacinquesimo. Palla tra i piedi di Ferrara che va in buon anticipo. Ferrara in avanti per Belloni, aveva scelto bene il tempo dell'inserimento, ma l'arbitro dice che basta così, l'Inter batte il Rosenborg 3-1.